Creare un modello italiano per la lotta alle discriminazioni. È l'obiettivo di Fiona May, neoconsigliere all'integrazione, che la settimana scorsa è stata protagonista della sua prima uscita ufficiale all'evento Respect Diversity, la conferenza organizzata dalla UEFA con il supporto della FederCalcio per discutere del problema della discriminazione nel mondo del calcio. Ai microfoni di VivoAzzurro Channel, la May inquadra la prima linea guida del progetto che intende mettere in campo il dialogo con i tifosi. Io penso di una cosa importante, i tifosi, perché stesso volentieri si vede, non sono mai comunicate, perché sono sempre le dite a puntare a loro, ma nessuno va a dare voce a loro. Io penso di una cosa più importante, andare a voce a loro, a vedere, a radicare la discriminazione nel stadio. Capito? Cioè, anche gli altri componenti, però io penso di una cosa più importante, i tifosi. Secondo la May è importante comunicare con le nuove generazioni, inviare i loro messaggi positivi e il messaggio principale è presto spiegato. Sempre penso, con le nuove generazioni, è una questione dell'educazione, è una questione di dare comunicazione e livello, linguaggio per i giovani, per capire che vuol dire diversità, vuol dire che non c'è nulla, ci sono razze, razze umane. Punto. In occasione di Respect Diversity, la May ha incontrato oltre 200 delegati in rappresentanza delle federazioni associate alla UEFA, delle leghe dei club, dei soggetti operanti nel settore delle politiche dell'integrazione. Un confronto che la May ha definito importante nel suo percorso di approccio al calcio e alle sue problematiche legate alle discriminazioni.